Salve a tutti! In questa lezione impareremo a capire i movimenti del direttore d'orchestra. Sicuramente siamo abituati a vedere un direttore che, con una serie di movimenti, guida una grande orchestra sinfonica come questa. Anche in ambito scolastico c'è bisogno di una figura che diriga il gruppo classe alle prese con l'esecuzione musicale d'insieme. Che si tratti dell'orchestra di classe con gli strumenti didattici, come quella che vedete in questa foto, di un coro o di un gruppo misto, l'insegnante veste i panni del direttore. Ma a cosa serve un direttore nella musica d'insieme? Il direttore di un gruppo di esecutori, che sia un'orchestra sinfonica, un coro o un'orchestra scolastica, ha essenzialmente due funzioni. Una funzione tecnica, cioè quella di portare il tempo per tutti gli esecutori, e una funzione interpretativa, ovvero quella di far eseguire il brano al gruppo secondo una propria interpretazione. E questo avviene soprattutto in ambito professionale più che didattico. Iniziamo a capire la funzione tecnica, cioè quella di portare il tempo per tutti gli esecutori. Se pensiamo a uno strumentista che ha la possibilità di suonare da solo, ad esempio un pianista che affronta un repertorio solistico, non c'è bisogno del direttore perché è egli stesso che può portare il tempo in autonomia. In presenza di una pluralità di esecutori invece, portare il tempo può essere un'operazione molto ardua. Immaginate che l'esecutore che si trova all'estrema sinistra deve portare lo stesso tempo di tutti anche di quello che si trova all'estrema destra. Non è semplice, per questo motivo c'è un direttore che porta il tempo per tutti. La funzione interpretativa invece, cioè quella di far eseguire il brano al gruppo secondo una propria interpretazione, è importante soprattutto nella musica accolta, nella musica di ambito professionale. Anche in questo caso torniamo a fare l'esempio del pianista che ha la possibilità non solo di portare il tempo da sé ma anche di interpretare da solo secondo la propria inclinazione, la propria sensibilità musicale. In ambito orchestrale invece intrecciare le diverse sensibilità musicali o inclinazioni personali degli esecutori non sarebbe possibile. Per questa ragione il taglio interpretativo del brano è lasciato alla sensibilità, alla preparazione e all'inclinazione del direttore d'orchestra. È proprio per questo motivo infatti che vediamo direttori assumere atteggiamenti, posizioni, sguardi molto particolari durante la direzione di un'orchestra. Naturalmente in ambito didattico tralasceremo questa funzione e ci concentreremo sulla funzione tecnica. Il direttore può dirigere impugnando una bacchetta in mano, ma questo avviene soprattutto in ambito professionale, utilizzando una mano sola o utilizzando entrambe le mani. Questa è la vista che ha il direttore rispetto al gruppo. Questa invece è la vista che hanno gli esecutori rispetto al direttore. Ricordiamo che il direttore si trova molto spesso in posizione sopraelevata rispetto agli esecutori e questo avviene soprattutto in gruppi di grandi dimensioni come le orchestre sinfoniche, perché possa avere la possibilità di guardare anche le file che stanno in fondo, ma anche per permettere agli orchestrali stessi di guardare i suoi movimenti. Il direttore inizia sempre con un movimento preparatorio che dipende dalla scrittura del brano. Un brano inizia in battere se parte da un tempo forte. Prendendo come esempio un tempo binario, il battere si trova sulla prima pulsazione. Uno, due, uno, due, uno, due. La prima è forte, la seconda è debole. In un tempo ternario abbiamo una pulsazione forte e due deboli. Uno, due, tre, uno, due, tre. In un tempo quaternario abbiamo una pulsazione forte, la terza pulsazione semiforte, la seconda e la quarta saranno deboli. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Un brano che inizia in levare è un brano che parte da un tempo o da una pulsazione debole. Il levare è un movimento della mano verso l'alto. Invece il battere è un movimento della mano verso il basso. Il direttore compie un movimento a partire dalla parte destra verso l'alto per fare il levare e poi scende giù per fare il battere. In questo modo. In entrambi i casi il direttore deve fare un movimento preparatorio perché il gruppo possa partire. Di solito, se un brano inizia a imbattere, il movimento preparatorio del direttore coincide con il levare. Questo è un esempio di inizio di brano imbattere e lo si vede dal fatto che la prima nota si trova sulla prima pulsazione del due quarti, ovvero quella forte, ovvero imbattere. Vediamo adesso un esempio concreto tratto dalla musica sinfonica. Qui vedete il direttore pronto a far partire l'orchestra sinfonica e un brano imbattere farà un movimento molto rapido in levare e poi l'orchestra inizierà sul tempo forte. Levare, battere. Di solito, se un brano inizia in levare, il movimento preparatorio del direttore coincide con il battere, ovvero il contrario di quello di prima. Questo invece è un esempio di inizio di un brano in levare. Lo capiamo dal fatto che la prima pulsazione ha una pausa, per cui la melodia inizia su un tempo debole, ovvero in levare. Anche in questo caso vedremo un esempio di partenza in levare tratto dalla musica sinfonica. Stiamo per vedere una partenza in levare, il direttore farà un movimento imbattere molto rapidamente e l'orchestra partirà sul tempo debole. Avete notato il movimento secco del direttore sul battere e la partenza dell'orchestra sul tempo successivo, ovvero sul levare. Vediamo adesso quelli che sono i movimenti delle mani nei metri più comuni. Questa è la vista di lettore e poi abbiamo anche la vista dei movimenti da parte degli esecutori. Iniziamo dal metro di due quarti. Due quarti e così. Uno, due. Uno, due. Nella vista di lettore il primo si sposta a destra e poi va su nel levare. Battere, levare. Ovviamente gli esecutori vedranno questo movimento in maniera speculare, per cui questa direzione per loro sarà la sinistra e non la destra. Preparazione. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Anche con due mani. Un numero di tre quarti. Abbiamo l'altro di tre quarti. Abbiamo l'uno qui, il due a destra e il tre su. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Adesso vediamo la vista da parte degli esecutori. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Anche con due mani. prepara. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Un altro metro molto comune in ambito didattico è il quattro quarti. Abbiamo l'uno in basso. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre e quattro. Ovviamente, come per gli altri metri, gli esecutori vedranno questo movimento a specchio. Il due, anziché vederlo a sinistra, lo vedranno a destra e così via. prepara. Prepara. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. anche con due mani. Prepara. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Infine, vediamo il movimento di chiusura che il direttore compie quando il brano è terminato. Facciamo un esempio nel due quarti. Uno, due, uno, due, uno, due e chiude. Facciamo un esempio.